Le violenze che ci sono anche alle 6 di pomeriggio, insomma, è anche un po' l'ora di farla finita, credo, no? Sono due le questioni che hanno tenuto banco nella zona di Campo di Marte, dove ci troviamo in questo momento, riguardo soprattutto la sicurezza di questa zona della città di Arezzo. La prima è quella che vedete alle mie spalle, la cancellata, le porte, insomma, che sostanzialmente terranno chiusa la Galleria Valtiberina, ovviamente a lavori terminati, perché in questo momento, come vedete, una delle due porte ancora manca. Questo avverrà perché dopo il pronunciamento del Tarra, a cui si è rivolto uno degli esercenti, l'ordinanza del sindaco Ghinelli è stata dichiarata legittima. E quindi adesso il condominio dovrà approntare questa chiusura e chi vorrà passare dalla Galleria Valtiberina dovrà suonare un campanello. Cioè, è un primo passo per un marginale, un fenomeno che si sta sempre più allargando da tutte le parti e tutta la città, insomma, da altre città. L'altra questione è quella che invece riguarda l'esercito, la presenza dell'esercito in questa zona, non solo qua, ma anche nella parte più bassa, quindi nel quartiere di Saione. Su questo abbiamo raccolto l'intervista dell'assessore alla sicurezza del Comune di Arezzo Magi e del questore di Arezzo, Bruno Failla. Stiamo preparando, diciamo, la richiesta in uno spirito comunque che non è assolutamente quello di... è semplicemente quello di massimizzare l'impegno per dare una risposta alla nostra città, a cui vogliamo tanto bene, vogliamo che effettivamente possa avere il massimo. Il piano di strade sicure in tutta Italia prevede l'impiego dell'esercito a tutela degli obiettivi sensibili. Il militare non ha compiti specifici di polizia di sicurezza o polizia giudiziaria. Quindi il discorso su Saione è un discorso di intervento, di prevenzione. Poi, certo, più siamo è meglio.